buongiorno cari amici benvenuti dal vostro andrea al matematico in questa lezione di analisi 1 dedicata ai limiti quindi oggi vedremo quindi esercizi sui limiti partiamo subito dal primo esercizio quindi il limite per n che tende ad infinito di n tutto fratto n più 2 tutto elevato alla n chiaramente essendo che n tende a infinito questa forma chiaramente può essere scritta in modo più sintetico come n su n perché chiaramente 2 è trascurabile rispetto ad n che tende ad infinito tutto elevato alla n quindi n su n farebbe 1 e quindi otterremo una forma di indecisione di indeterminazione del tipo 1 elevato alla infinito ora vediamo il primo modo per poter risolvere questo esercizio quindi il primo modo è il seguente e quindi abbiamo il limite per x che tende ad infinito ora cosa facciamo quindi aggiungiamo più 2 e meno 2 al numeratore in modo da rendere quindi questo x più 2 esattamente uguale a questo x più 2 sotto chiaramente quindi questa frazione può essere scritta come x più 2 su x più 2 che fa 1 e poi quindi meno appunto resta il 2 fratto x più 2 tutto elevato alla x ora vedete che questa cosa ricorda molto la formula limite per t che tende a 0 di 1 più 1 su t elevato alla t che è uguale ad e allora in pratica anche qua ci ricordiamo che se noi sostituissimo quindi scusate per t che tende chiaramente ad infinito e non 0 quindi di 1 più 1 su t elevato alla t che sappiamo che fa ora praticamente vedete che abbiamo qui un limite per x che tende ad infinito allora cosa facciamo per renderla simile diciamo no quindi per renderla simile possiamo fare uno stratagemma di questo tipo quindi dire che x tende ad infinito oppure che x più 2 tende ad infinito praticamente sarebbe diciamo la stessa identica cosa comunque faremo appunto questo stratagemma cioè eleviamo tutto a che cosa alla vedete che questo esponente qui è esattamente reciproco di questa frazione quindi se praticamente questo fosse il nostro 1 su t il nostro t sarebbe questa frazione quindi invertita e quindi in pratica elevo tutto alla meno perché chiaramente c'è il meno ed inverto questa frazione quindi alla meno x più 2 fratto 2 chiaramente per ripareggiare i conti dovrei praticamente fare fratto meno x più 2 fratto 2 tutto appunto elevato alla x chiaramente scrivere questa cosa è una divisione tra due frazioni appunto è come fare il prodotto tra che cosa quindi tra la prima frazione per la seconda invertita ma fare un prodotto di esponenti è come fare una potenza di potenza e quindi in pratica verrebbe il limite per x che tende infinito di 1 più appunto meno 2 fratto x più 2 tutto elevato al suo reciproco e di conseguenza appunto questa quantità farebbe e proprio in virtù del limite notevole e poi qui che cosa abbiamo quindi questa frazione che era il denominatore che poi va a moltiplicare diventa la potenza di questa cosa e quindi alla meno 2 fratto x più 2 tutto elevato alla x quindi è come moltiplicare gli esponenti ora se notate bene quindi questa quantità che sarebbe appunto la frazione meno 2x fratto x più 1 quando la x tende ad infinito è praticamente asintotica a meno 2x fratto x e quindi possiamo dire che questa cosa è uguale a meno 2 cioè alla fine questo è asintotico a meno 2 quindi in pratica questa cosa è come mettere elevato alla meno 2 quindi se la cosa dentro fa e e questo qui fa appunto meno 2 quindi il risultato finale del limite sarà appunto elevato alla meno 2 in modo analogo per risolvere sempre questo esercizio e potremmo usare un secondo stratagemma quindi il limite per n che tende ad infinito di n fratto n più 2 tutto la n potrebbe quindi essere scritto in questo modo quindi ricordate che la trasformazione di un k nella sua forma esponenziale sarebbe elevato alla logaritmo naturale di k chiaramente l'esponenziale e il logaritmo sono due funzioni inverse e quindi quello che producono è praticamente la costante k chiaramente questo vale solo se k è positivo nei numeri reali ora immaginiamo che quindi il nostro k sia praticamente rappresentato da questa frazione quindi n fratto n più 2 alla n chiaramente quindi potremmo riscrivere elevato al logaritmo naturale della nostra k insomma quindi di n fratto n più 2 tutto elevato alla n chiaramente ricordate che per le proprietà dei logaritmi questo n può essere spostato davanti e quindi logicamente avrebbe il limite per n che tende ad infinito di elevato alla n che ho spostato quindi davanti per il logaritmo naturale di n fratto n più 2 ora noi sappiamo che cosa? sappiamo che quando n tende ad infinito la quantità n fratto n più 2 tende ad 1 e se quindi tende ad 1 fa tendere anche tutto il logaritmo naturale a 0 ma noi sappiamo che quando il logaritmo naturale tende a 0 praticamente ci ricordiamo questa proposizione che ci viene direttamente dai limiti notevoli cioè dal limite notevole il limite per x che tende a 0 dal logaritmo naturale di 1 più x su x sappiamo che per x che tende a 0 appunto il logaritmo naturale di 1 più x tende appunto alla quantità x ora quindi ribaltando un po' la concezione quindi se ad esempio io andassi a chiamare questo 1 più x uguale a t chiaramente x diventerebbe t meno 1 e quindi questa cosa vale dicendo che appunto quando x tende a 0 ovvero praticamente è quando t tende a 1 in sostanza quindi c'è questa tendenza di t a 1 cioè dell'argomento praticamente del logaritmo naturale che tende ad 1 allora quindi possiamo far tendere il logaritmo naturale di t alla quantità t meno 1 ora quindi se osserviamo siamo proprio in questa situazione perché vedete che l'argomento tende ad 1 e di conseguenza tutto questo logaritmo naturale tenderà quindi all'argomento del logaritmo a cui sottraggo 1 quindi insomma possiamo anche dire che il logaritmo naturale di t tende a t meno 1 appunto quando t tende ad 1 oppure quando il logaritmo tende a 0 insomma quindi di conseguenza possiamo far tendere il logaritmo naturale di n fratto n più 2 alla quantità n fratto n più 2 meno 1 quindi log di t quando t tende ad 1 appunto il logaritmo di t tende a t meno 1 ora quindi ritornando al limite notevole cioè al limite presentato in precedenza quindi possiamo sostituire in maniera sintotica la quantità logaritmo naturale di n fratto n più 2 proprio con la scrittura argomento del logaritmo meno 1 chiaramente l'argomento del logaritmo è una frazione quindi n fratto n più 2 che è molto più semplice che avere un logaritmo meno 1 chiaramente che cosa succede? quindi che tra n fratto n più 2 meno 1 posso fare il denominatore comune che sarebbe quindi n più 2 e quindi vado a fare n meno n più 2 cioè n meno n meno 2 i due n se ne vanno e quindi quello che mi rimane che cos'è? sarebbe e elevato alla n per meno 2 che farebbe meno 2 n tutto fratto n più 1 chiaramente è scritto questo esponente quindi scritto in maniera sintotica quindi meno 2 volte infinito fratto infinito più 2 il 2 è una quantità molto piccola infinitesima e quindi sicuramente trascurabile rispetto agli infiniti al numeratore e al denominatore quindi quelli che prevalgono sono gli infiniti sulla scala degli infiniti quindi abbiamo meno 2 n su n in maniera sintotica e quindi diremo che praticamente l'esponente a questo punto varrà 2 quindi a questo punto abbiamo il nostro limite per n che tende infinito che è uguale a e elevato alla meno 2 che è il risultato che esattamente abbiamo trovato prima con l'escamotage del numero e quindi scrivere i alla meno 2 chiaramente vi ricordo che è come scrivere 1 fratto i alla seconda ora prendiamo quest'altro esercizio quindi il limite per n che tende ad infinito di linea di frazione al numeratore abbiamo n meno n alla seconda tutto fratto 1 più 10n per logaritmo di n quindi come facciamo a risolvere questa cosa? quindi qui sicuramente non andiamo verso nessun limite notevole ma andando a fare una semplice sostituzione quindi troviamo degli infiniti al numeratore quindi ho scritto in generalmente infinito e anche sotto abbiamo infinito per infinito quindi in sostanza è una forma indeterminata quindi del tipo infinito su infinito ora praticamente ricordiamo che sulla scala degli infiniti praticamente l'infinito n è molto più piccolo rispetto all'infinito di n alla seconda quindi qui dentro ho fatto una scrittura per indicare che n è una quantità molto piccola rispetto ad n alla seconda quindi n è uno piccolo rispetto ad n alla seconda quindi diciamo che l'infinito che andrà a sopravvivere al numeratore sarà sicuramente il più forte che sarà meno n alla seconda dal denominatore quindi ci troviamo 10 per n su log di n visto che uno è uno piccolo rispetto all'infinito ovvero uno è una quantità trascurabile e quindi finiamo in questa situazione qua a questo punto andiamo a semplificare l'n alla seconda al numeratore con l'n al denominatore quello che mi rimane è praticamente meno n su 10 log di n ricordiamo che log di n quando n tende a infinito sta sulla scala degli infiniti in maniera inferiore rispetto a una potenza quindi il logaritmo di n è uno piccolo rispetto all'n quindi in sostanza è come avere una quantità molto più grande al numeratore rispetto al denominatore e quindi logicamente abbiamo che è come se prevalesse il numeratore e quindi prevale l'infinito al numeratore e quindi il risultato sarà infinito chiaramente il segno di questo infinito sarà meno perché è presente quindi un meno al numeratore andiamo quindi a fare quest'altro esercizio limite per n che tende a più infinito di n che moltiplica quindi aperta la parentesi tonda il logaritmo di n più 1 meno il logaritmo di n se stai preparando l'esame di analisi matematica 1 accede ai videocorsi di matematica e sotto nei corsi avanzati troverai il corso di analisi matematica 1 è un corso adatto ad ingegneria ci sono circa 40 video che trattano dei seguenti argomenti quindi limiti notevoli serie e successioni limiti di Taylor integrali e numeri complessi scopri il videocorso e prepara al meglio il tuo esame grazie a tutti grazie a tutti